Ma quindi la sfida è la che hai completato il percorso prima? Sì, è praticamente... No, ma che cavolo! Sì, va bene, va bene, va bene! Allora, guarda che è molto complicato! È molto complicato! Dobbiamo mettere questi qui per sicurezza! Sì, molto complicato! Aspetta un secondo! Eh no, devi andare con calma però! Mi sono agganciato! Ma me ero agganciato prima io! Scusami, eh! Certo! Non riesco! Non avremo l'altro canto ma non c'è nessun problema! Vai! Vai tranquillo! Ci siamo! Ci siamo! Ma in due qui non è fattibile, eh! Non è fattibile! Allora, attenzione! Ok! Il livello successivo sembra molto facile! Non c'è nessun problema! Guarda la velocità! Aspetta! Ma almeno puoi dare la mano a tua sorella per favore! Sicuramente! Non è neanche questa una brutta idea! Guarda che ti sto raggiungendo, eh! Ti sto raggiungendo! Fallo senza mani! Lo devi fare senza mani però! Senza mani! Sì, va bene, va bene! Ti faccio questo! Non c'è nessun problema! Guarda un po'! Piano, eh! Stai attento! Ma non puoi vedere! Puoi stare proprio dietro di me! Via! Levati! Muoviti! Muoviti! Ci sono! Ancora in testa! Attenzione, capitano! Anche qua sopra non te morde! Eh, va bene! Ma questi senza mani è impossibile! Questi senza mani è impossibile! Calma! 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 Allora, tu non mi devi stare dietro! Almeno a un chilometro! Ma come almeno a un chilometro? Muoviti dai! Puoi dare le scatole! Ma sei troppo dentro! Cioè, posso dire che sei troppo dentro! Va bene, va bene! Attiva la sfida! Vai! Attivala! Iniziamo una gara, va bene! Non c'è problema! Non c'è nessun problema! No! L'unico problema è che io già sto iniziando a sudare praticamente! Sì, infatti! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai! Prendiamo la nostra arma segreta! Allora, è molto complicato! È molto complicato! 3, 2, 1! Let's go! Oh! Già su! Già su! Guarda che ti sto per raggiungere! Attento che ti prendo, eh! Sto per raggiungere! 3, 2, 1! Oh! Aspetta che sto per raggiungere la stella! Ma lui è troppo pesante per fare una cosa che ti dico! Vabbè, prima ci siamo riscaldati però con quel giochetto delle femminucce! Adesso dobbiamo aumentare un pochettino la difficoltà! Non vedo neanche la fine! Scusami! Vabbè, tu sei una bambina, dai! Non ti preoccupare! Vai, si può procedere! Bambina! Io credo che lei ti superi nel livello! È impossibile! Ne sono abbastanza convinto! Proviamoci, proviamoci! Iniziamo! Bene, va bene! Vai, si parte! 3, 2, 1! Vai! Parti! Piano! 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 Sali! 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 Più di così! È più complicato in due! Con calma! Con calma! Non mi devi girare la scala! È questo il problema! Sali prima soltanto tu! Io te la tengo! Ok! Ora puoi salire vai! Sicuro? Sì! Sei sicuro sicuro! No perché qui se cadi mi distruggi eh! Te lo dico! Ci siamo qua! Mamma mia quanto è alto! Ci siamo quasi! La scala qui è finita! Ok! Perfetto! No! 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 Io direi che possiamo scendere! È finito il parkour! No! No! Si sale! Si sale! Si deve continuare a salire! Mannaggia! Il primo livello è già la carrucola! Ok! Sei pronto? Sei pronto! Devi andare! 3! 2! 1! Oh mio Dio! Non ce la faccio! Non ce la faccio! Spingimi! 3! 2! 1! Via! Oh cavolo! No! No! Ok! Molto molto alto! Decisamente alto! Sono prontissimo! 3! 2! 1! Vado! Oh cavolo! Vai! Aggrappati! Perfetto! Ci siamo! No! 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 Cometriamo la difficoltà! Aspetta! No! Non challenges! oh cavolo attento vai 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 ho paura più veloce ok ma il problema è che è troppo obliquo dai avanti ok ci siamo calma che questo è più complicato calma eppure questo qui lo facciamo in due vai via 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 ti voglio veloce ti voglio veloce vai vai attenzione oh attento era un piccolo troll con calma ci siamo si vai mamma mia credo di aver preso 4 kg per il sudore si pure io il problema ora che ci stiamo avvicinando si è il livello più difficile di tutto quale sarebbe lo vedi ah la scopa di harry potter di cui stavamo parlando finalmente possiamo volare il problema è che quale ti fai harry potter ah aspetta ma tu soffri di vertigini per caso assolutamente no ci siamo si è arrivando ci siamo è proprio lei ok gradino allora moschettone fra oggi potrai finalmente per la prima volta volare si impugno questa ci siamo si stiamo per iniziare oh mio dio tre no 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 ti spingo io ti spingo io 3 no 3 2 1 vai no 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 io non parto non parto vai ma come no ok devo solo sì 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 ok 2 3 2 1 vai sta volando ok sono pronto a diventare un mago oh cavolo oh mio dio sì 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 in risperizione attenzione eccolo è proprio lui da scopa è diventato cavallo ottimo eccolo qui harry potter dei poveri dei poverissimi mamma mia harry potter proprio 50 centesimi kazu ho una buona notizia quale sarebbe il percorso è finito ho una cattiva notizia c'è un altro più difficile no guarda qui per scendere no 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 oh mio dio la scesa non me la fai oh mio dio vai piano piano si non puoi morire qui mi faccio un picnico sull'albero poi con calma con calma si fa tutto attenzione abbiamo la prossima sì sì ma vai tranquillo kazu un percorso colore rosso che vuol dire colore rosso scusami secondo te cosa vuol dire che semplicissimo ovviamente vai su sali queste scale voglio vedere te però io per ora non ti seguo aspetto che arrivi in cima poi se magari mi puoi aspettare vai su che mancano solamente tre scalini vai cadi 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 uh